Musica Bella ragazzi sono DarkestVep e benvenuti nel mio canale Benvenuti in questo nuovo video di Black Ops 2 Scusatemi l'assenza ma sono stato impegnato con la scuola E visto che stranamente i miei genitori mi hanno lasciato la Playstation Ho approfittato per farmi vedere che studiavo E infatti praticamente la play la uso soltanto di sera per fare le cv e fare alcuni video E comunque questa qui è una partita disputata su Dominio, su Yaked E' una mappa che la amo praticamente perché è una mappa dove praticamente faccio i miei migliori punteggi Ed è una partita su Dominio che stavo giocando con il mio amico Cristiano Conti Detto Lollershadow su Youtube conosciuto così Comunque raga stavo usando il PDV con il silenziatore, caricatore rapido mi sembra e mirino laser Perciò contro accessori Le serie di uccisioni erano Elvisato Orbitale, l'Oster e Vitol Questa qui era la bellezza di Call of Duty perché ero al quinto prestigio come potrete vedere alcune volte quando schiaccio Select E comunque ero al quinto prestigio e avevo la bella vita, avevo le armi d'oro e purtroppo adesso non è più così Perché, cari grazie adesso c'ho il... cioè con la serie che mi trovo meglio è Elvisato Orbitale perché... Sinceramente io l'Oster e il Vitol non li sto usando più perché sto... cioè sto aspettando di... di sbloccare i cani e lo sciame Perciò io sto... sto praticamente giocando adesso soltanto a uccisione confermata in veterano Che almeno shotto perché io è da lì che... cioè non nato però è... c'è l'espressione giusta per dire io su Call of Duty Quando avevo l'Xbox la bellezza di 5 anni fa mi sembra giocavo con... su veterano, sempre su veterano con il mio clan dell'Xbox E purtroppo adesso non è più così E infatti quando giocavo su veterano diciamo che massacravo... massacravo tutti E facevo un botto di uccisioni, no? O se no per liberare molto facilmente adesso sto giocando anche a... cerca di strugge però Maggiormente sto giocando a... a... che cazzo si chiama... a uccisione confermata in veterano Per almeno arrivare alle... al cinquantesimo livello insomma perché... insomma adesso sono al 42... Sì mi sembra... no al 41 del... neanche il primo prestigio ovviamente Perché visto che sono stato bannato allora... Mi ritrovo nella merda perciò Ok adesso stavo usando il Loster Mi sembra il Loster su sta mappa Io faccio un massacro ogni volta però... Adesso il gameplay è vecchio perché... L'ho... l'ho fatto circa... Quattro giorni fa Ehm... Eh sì che cazzo dico quattro giorni fa Ehm... più di due settimane fa perché... Come potete ben vedere ero ancora al... al quinto prestigio perciò Ho detto una beata min... Cioè una beata min... no che cazzo dico Ho detto una minchiata Comunque raga ultimamente sto conoscendo... Ehm... Molta gente... Su... su YouTube Infatti conosco... Ehm... ho conosciuto molta gente del... Gli amici di Pomers che sono veramente molto simpatici perché... Ogni tanto quando... Quando mi invita... Quando può invitarmi... Nel... nel suo gruppo Incontro gente veramente simpatica O se no ho incontrato amici online Che sono... Guardate veramente simpatici Finalmente non ho trovato... Vivi minchia Come... ho... Ho trovato... Che ho trovato... Che mi sta molto simpatico... Luis Che... Ehm... Ehm... Diciamo... Il player... Insieme a Cristiano con cui ho fatto il proteggio... Ehm... Più alto che abbia mai fatto su... Su Black Ops... Cioè in realtà su Call of Duty perché... Sinceramente io non ho mai fatto altri punteggi... Su Call of Duty... Ehm... Comunque... Ehm... 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 Che... Che qualche Youtuber... Youtuber famoso ha lasciato un like o un commento... Può essere... Non lo so... Comunque raga... Il consiglio che vi do io è di giocare... In gruppo... Perché... Insomma almeno ci si organizza bene per fare alti punteggi... Ehm... 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 Cosa era ieri... Che praticamente... Ero nella lobby insieme a Cristiano... Ehm... 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 Io siccome sono quello che maggiormente deve fare più punti per salire di livello... Ho deciso di fare una partita in dominio... Ehm... E mi sono messo le serie di uccisione, le serie punti più basse... Ehm... 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 Mi danno 10... 10 punti di... Di assist... Ehm... Perciò questa cosa... Questa cosa è abbastanza buona, dai... Comunque raga... Il... Video... Spero che... Che vi piaccia... Spero che... Non... Cioè... Che... Cioè... Non sono uno che fa risultati come... Mio amico per Mercedes... Ogni... Ogni volta che gioca che supera le 100 kill... Perciò... La maggior parte delle volte che... Che gioca lui fa 100 kill perciò... Ehm... Io non potrò... Cioè... Non so... Non potrò mai fare 100 kill... Cioè... Non è che non potrò mai farle... Potrò farle però... Se non ho l'aiuto della... Della connessione raga... Sinceramente su Call of Duty Black Ops 2... Non posso andare da nessuna parte... Perché... Insomma... Diciamo la verità... Perché... Chi è connessionato su Call of Duty... Regna... Chi non è connessionato... Non fa un cazzo... E io infatti... E' capitata... Questa volta qui che ero... Lost mi sembra... O era Lost Cristiano che... Eravamo del gruppo... E come vedete ho fatto... 90 kill... Ed è... Ed è già buono... Comunque raga... Volevo dirvi che... I gameplay di Black Ops... Che vi porto ultimamente... Sono... Abbastanza... Abbastanza vecchi... Sono... Prima... I gameplay prima che... ero stato bannato... Non so perché... Ancora non chiedetemelo... E... Sono gameplay... Che sono ancora... Abbastanza vecchi... Perché come vedete... Sono ancora al quinto prestigio... Anche qua era il quinto prestigio... E... Comunque... Ho deciso... Di fare così... Il mio... Il mio... Il mio account... Il mio account... Diciamo... Ed è quello di... Quando arriverò... A 200 iscritti... Farò il... Come si dice... Il... Un account... Per giocare con gli iscritti... E poi... E... E... La seconda cosa che faccio con... Con questo account qui... Su Black Ops... Perché sinceramente... Io Black Ops ci gioco soltanto per fare gameplay... Perciò... Gameplay e CV... Perciò... Non me ne fotte un cazzo di arrivare al quindicesimo prestigio... Perchè oltretutto... Se mi metto... Perchè c'è molta... C'è molta gente del mio clan... Che mi dice... Vuoi fare il glitch... Vuoi fare il glitch... E di qua e di là... Io raga preferisco non farlo... Perchè... E... Perchè sinceramente... Dico la verità... Con il... E... Livello più basso... Del... Del vostro prestigio... Del vostro prestigio... E... Incontrate... Gente abbastanza... Abbastanza... Abbastanza nab... Cioè abbastanza scarsa... Toh... Perchè per fare gameplay... Che... Che supera almeno le 60 kill... Devi... Devi incontrare gente abbastanza scarsa... E... Ed infatti è così raga... Me ne sono accorto... Perchè quando ero al quinto prestigio... Raramente trovavo... Gente nabba... E... Guardate qua che cazzo ho fatto comunque... E... Invece... Ultimamente... Visto che sono stato... Mh... Bannato... Diciamo e... Mi ritrovo in questo prestigio qui... E... Mh... Incontro gente ma molto... Ma veramente scarsa raga c'è... Gente che... È ancora al livello 1... Cioè io adesso sì... Io sono stato al livello 1... Per la... Per carità... Per... Però... Cioè... È una cosa un po'... Un po'... Che... Non strana... C'è gente che ancora sta comprando questo gioco... Diciamo che questo gioco... Ha fatto veramente molte vendite... A quanto pare... Perché... C'è gente veramente raga... Cioè io ve lo posso... Ve lo posso garantire... Cioè sono stato bannato... Ma dall'altra parte... È stato meglio perché... Ehm... Cioè... Mi trovo veramente bene con... Con il prestigio 1... Perché... Cioè... Boh... Non lo so raga... Non so come esprimermi... E comunque... Vincendola tutta... Lo ammetto... Preferisco essere stato bannato... Che avere fatto il glitch... Quello è sì... Ehm... È giusto... Cioè... Non è che è giusto... Preferisco perché... Come vi ho detto... L'ultimo prestigio... Oltre alle classi d'oro... Non è che... Porta vantaggi... Anzi... Porta più incazzature... Perché... Chi è a livello più alto... Incontra gente più alta... I suoi livelli... Io invece farò così... Mi fermerò al... Al primo prestigio... Tranquillo... Però le mie armi... Oro d'oro lì... Come cazzo si fanno... Diamantate o me... Come cazzo voglio farle... Ehm... Niente raga... Il video sta giungendo a te... Al... Al termine... Ehm... Siamo a 157 iscritti raga... Spero di arrivare a 200 iscritti... Prima di... Di aprile... Perché... Voi non so se lo sapete... Cioè... Voi non lo sapete... Io ho messo 23 aprile... Perché... È il mio compleanno... Ed è quasi un anno che sono... Su YouTube... No... Sì... È quasi un anno che sono su YouTube... Però... Eh... Dico la verità... Su YouTube... Ehm... Sono... Cioè... Ho capito... Come stanno le cose da YouTube... Da... Dall'inizio dell'estate... Ecco... Comunque raga... Vi terrò aggiornati... Sul prossimo video... Ci becchiamo... Alla prossima... Iscrivetevi... Lasciate un like... Un commentino... Se vi va... E... Ci becchiamo al prossimo video... Bella raga... Signori... È stata un'azione da manuale... Signori... È stata un'azione da manuale... È stata un'azione da manuale...